Al Sant'Agata tiene banco in queste ore la questione allenatore. Sulla panchina Amaranto al momento non ci dovrebbero essere particolari scossoni, con Tortelli che resterebbe dunque alla guida della squadra. Tuttavia già nel post partita di Regina Benevento il presidente Lilo Foti ha detto chiaramente di voler valutare con attenzione eventuali nuovi cambi al timone di un gruppo che sembra davvero allo sbando. Lo stesso Foti sembra intenzionato a concedere un'altra opportunità al duo Tortelli-Padovano, impegnato in questi giorni con la preparazione della delicata sfida esterna contro il Savoia. La nuova cura non sembra aver sortito gli effetti sperati, come dimostrano le due sconfitte, gli zero gol segnati e i quattro subiti. A preoccupare in particolare l'evidente passo indietro sul piano del gioco rispetto alla passata gestione Cozza. Anche per questo motivo il numero uno Amaranto ha sondato il terreno per eventuali cambi in corsa. Su tutti in questo momento sembra emergere con maggior insistenza il nome di Giancarlo Camolese, quale possibile soluzione in corsa. Per il tecnico torinese, peraltro, quello in riva allo stretto sarebbe un ritorno dopo l'esperienza da calciatore all'inizio degli anni Ottanta e la fortunata parentesi in panchina nella stagione 2003-2004 in Serie A, quando dopo essere subentrato a Franco Colomba, condusse la squadra Amaranto alla salvezza.